Amore come profumi e poi la tua pelle è tutta vellutata e poi sono sempre quelle gemelle che mi guardano e mi salutano Paolo dimmi cara ma toglimi una curiosità si se fosse l'ultima mezz'ora della nostra vita tu cosa faresti e io farei l'amore con te e gli altri 29 minuti e vabbè proprio a stutare dai ma c'è l'altra parte ma gli altri 29 minuti amore dai non ci dice queste cose a me dai io sono bravo